E anche quest'anno è arrivata l'estate, a confermarlo c'è un nuovo ebook reader, Kobo Clara HD. Eccolo qua, un 6 pollici, davvero piccolo, davvero leggero, 166 grammi, 50 e meno di un Kindle Paperwhite 3, pensate, spessore di 8 mm e qualcosina, e insomma, un impatto in tasca, in borsa, dove lo mettete? Davvero, davvero ridotto, questo entra davvero nel taschino, nella giacca, nei jeans, dove lo mettete? Lui sta bene, poi è molto robusto, come vedremo dopo, perché all'interno c'è una bella placca in metallo. Costa 129 euro, sarà disponibile nei prossimi giorni anche in Italia, abbinato ad una serie nuova di custodie, diversi colori, insomma, per questi dettagli poi guardate la recensione su hdvlog.it. Quali sono le sue caratteristiche principali? Beh, il nome dice già tanto, Clara deriva da Clarus, latino luminoso, ma anche il nome proprio, semplicemente chiaro, e infatti il display è la parte più intrigante di questo nuovo ebook reader. Kobo ha inserito finalmente, anche in questa dimensione da 6 pollici, la tecnologia Comfort Light Pro, che permette di regolare non solo l'intensità dell'illuminazione, come si fa su tutti gli ebook reader di nuova generazione, ma anche il punto di bianco, ovvero la temperatura del colore. Quindi io posso metterlo più freddo, più azzurrino, oppure più giallo, più arancione, più caldo, e quindi regolare questa cosa in base alle mie preferenze. Se sono all'esterno, se ho bisogno di concentrazione, se sto studiando, magari me lo metto un po' più freddo. Se sono la sera a letto, invece voglio proprio solo rilassarmi, lo metto un po' più caldo e più simile alla luce, no? Che farebbe una vera candela. Questa tecnologia è già stata usata e apprezzata su Kobo Aura One, il modello grosso, ma anche su Kobo Aura H2O Edition 2, l'ultima versione degli ebook reader di Kobo, ed è una tecnologia che usa dei LED di colore diverso messi attorno alla cornice. Altra novità di Clara HD è lo spazio di archiviazione, ovvero 8GB, di cui 6.8 all'incirca disponibili per l'utente, circa 6.000 ebook, ma 8GB sono il doppio rispetto a quello che offre il Paperwhite, o quello che offre il vecchio Kobo di questa fascia. Un bel passino avanti proprio per tutta la categoria, soprattutto, e qua c'è davvero una chicca, considerando che in questo modello Kobo è tornata ad installare la memoria interna su slot microSD. Se voi staccate il pannello posteriore, questo qua, cedete all'interno, c'è quella placca metallica di cui vi dicevo prima che lo rende molto solido, e c'è questa scheda microSD. Se voi la togliete, copiate la sua immagine su una scheda più grossa, magari da 32GB, potete sostituirla. Ci sono delle procedure online, anche perché il vero vantaggio degli ebook reader Kobo rispetto alla concorrenza è il supporto ai formati di tutti i tipi, no? E quindi non solo EPUB, MOBI e via dicendo, PDF chiaramente, ma anche CBZ e CBR, ovvero gli archivi dei fumetti. Chiaramente un 6 pollici resta sconsigliato, e lo ripeto, sconsigliato per i PDF, perché è piccolo, i PDF si leggono bene su questi dispositivi, solo nei modelli grossi, da 13 pollici, quelli che costano tanto. Comunque restano tutte le cose che piacciono agli utenti Kobo, che hanno reso questo brand molto più appetibile per chi è un utente esperto e ha bisogno un pochetto di andare a smanettare e personalizzarsi l'esperienza di lettura. Tra queste cose c'è ovviamente anche Pocket, e secondo me è il vero punto di forza di questi dispositivi, perché vi permette di leggere tutti gli articoli che trovate online, quello che volete, lo mandate a Pocket, e ce l'avete sincronizzato sull'ebook reader, lo leggete con il suo schermo. Grazie a tutti! Prima di chiudere vi dico due vincoli di questo Clara HD, il primo riguarda il tasto di accensione che è stato spostato qua sul fondo, pessima idea perché rischio di schiacciarlo per errore quando lo appoggio sul tavolo, è quasi a filo, ma quel quasi non basta, lo preferivo qua sul retro come gli ultimi Kobo, e poi ovviamente non è impermeabile, non c'è la certificazione, perché insomma in questa fascia di prezzo sarebbe troppo chiedere anche quello, dovete salire almeno fino a un H2O e sono 170 euro, oppure andare sul Kindle Wises 2 che costa 2,50, insomma è normale non averlo qua a 129 euro, 129 euro che però fanno bene la categoria, vi portano sul livello diverso, rispetto a un Kindle Paperwhite 3 qua c'è davvero molta più primizia hardware, l'altro sembra davvero un vecchio giocattolo se lo confrontiamo, non solo per lo schermo che si illumina in quel modo come vi ho fatto vedere, ma proprio per il telaio, per la portabilità. I Kindle secondo me restano più consigliati ancora a chi si avvicina adesso alla categoria, i Kobo restano più per utenti esperti, per chi sa dove andare a toccare, per chi conosce questo tipo di esperienza, per chi ha bisogno di qualcosa di un pochetto più flessibile assolutamente, però io come vi dico ormai da un po' di tempo, vi consiglio di spendere qualcosina in più, e prendere un modello un pochetto più grande. Due anni fa mi avrei detto senza dubbio prendete un 6 pollici va benissimo, adesso che tutti abbiamo usato per parecchio tempo i 6.8 ma anche i 7.9, ma anche i 7.9 del Kindle Oasis, che io uso ancora da mesi, beh, devo dire che quel formato un po' più grande fa bene, è più comodo, qua mi mancano quei due centimetri meno rispetto al Kindle, e dato che gli ebook reader si cambiano ogni tre o quattro anni, dai diciamo, può valere la spesa, può valere la pena spendere quei 50 euro in più, fare quella spesa in più, ed avere qualcosa di un pochetto più grande rispetto a un 6 pollici. Un 6 pollici come questo, che comunque è molto vicino all'idea dei vecchi modelli da 5 pollici, quindi davvero super portabile, consigliato se avete prima di tutto in mente la portabilità, le letture veloci che si fanno ovunque, mentre aspettate il tram, mentre siete spiaggia, come capiterà, spero per voi, tra poco, o anche mentre siete alla posta, fate la spesa, mentre, insomma, avete 5 minuti liberi, una cosa così. Vi evita di star là con lo smartphone in mano a guardare le notifiche, che tanto poi non vi servono a nulla e perdete soltanto tempo. Maggiori informazioni comunque su Kobo Clara HD, ve le lascio su hdblog.it. C'è una recensione completa che vi aspetta, con tutti i link agli altri ebook reader, con tutti i commenti degli utenti, che in questo settore sono molto molto esperti, quindi si va davvero davvero di fino nella nicchia a cercare il difetto, a cercare il pregio che magari io non ho considerato in questa recensione. Per tutti questi dettagli, appunto, andate su hdblog.it. Qua sotto in descrizione vi lascio il link per raggiungere direttamente tutto questo, insieme a un pozzettino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale.